E puoi risolverlo subito, solo con la competenza assoluta di Letterius, che da anni è conosciuto per la sua serietà e per aver risolto molteplici casi con successo. Se vuoi risolvere immediatamente il tuo problema, puoi telefonare per fissare un appuntamento più vicino alla tua città. 335 65 92 908 Riceve in qualsiasi parte d'Italia e anche all'estero. Letterius è l'altra faccia della realtà, professionista dell'alta magia e ovunque riscuote successo e fama internazionale, perché si dedica al suo lavoro con onestà e passione. La sua infinita potenza ed energia possono essere decisive per la tua vita. Ti indicherà la via più giusta per raggiungere la serenità in amore, affari, con i tuoi figli. Il maestro Letterius prenderà in considerazione il tuo caso e saprà darti il consiglio più appropriato per risolverlo. Mentre stai vedendo questo filmato, Letterius è nella tua città. Contattalo se vuoi, immediatamente, non perdere tempo. 335 65 92 908 Per casi importanti, interviene a domicilio. Riceve nelle principali città d'Italia. 335 65 92 908 Naturalmente tutti gli appuntamenti presi dall'operatore dell'Occulto Letterius sono riservatissimi. 335 65 92 908 Il maestro Letterius, per ogni tuo problema in amore, lavoro, ti darà un appuntamento nella massima riservatezza. Tuo figlio è cambiato? È ribelle? Ti preoccupa il suo stato d'animo? Non disperare. Letterius, il maestro, può riportarlo alla serenità. In questo periodo, mentre sta andando in onda questo filmato, è proprio nella tua città. Puoi contattarlo e parlare direttamente con lui, fissando un appuntamento. 335 65 92 908 Lo scopo del maestro Letterius è di rivelare verità nascoste che sono dentro di noi. Di portare luce nella nostra vita, serenità, successo, di consigliare e guidare e soprattutto di annientare l'invidia e tutto il male che spesso ci circonda. E da soli non siamo in grado di allontanare, ma con il suo grande intervento potrai distruggere per sempre. Letterius, maestro di alta magia, pranoterapeuta, ti aiuta... Grazie.